Io non commento le scelte interne degli altri partiti, ne le incursioni dei giudici faccio gli auguri, io penso che i Cinque Stelle stiano dimostrando tutto loro nulla a Roma, a Torino, a Livorno, quindi non sono preoccupato dalla sfida. Lavoro per un centrodestra unito, serio, compatto, la questione della leadership mi interessa poco, saranno gli italiani il giorno del voto in capina elettorale a decidere chi sarà il Presidente del Consiglio, ho l'ambizione che molti di questi italiani sceglieranno la Lega e sceglieranno sempre.